Ciao a tutti, eccoci qui dopo GP, Gran Premio dell'America ad Austin, terza prova mondiale 2019, di fianco a me Giovanni Zamagni, no, non è Giovanni Zamagni, Ezio Gianola, eccolo un livello molto sopra, non c'è Zam perché è rimasto negli States a fare vacanza con la famiglia, beato lui e l'ingegnere Giulio Bernardelli, ciao Giulio, ciao Nico, ciao Ezio, allora Ezio benvenuto, Ezio è stato, lui viene da Mandello provincia della Moto Guzzi, classe 1960, 10 anni di mondiale, poi racconteremo cosa sta facendo adesso ma andiamo subito su Austin, gara che in un certo senso ha entusiasmato, certo la caduta di Marquez ha riaperto i giochi nessuno se l'aspettava e poi cercheremo di capire cosa è successo, Valentino a quel punto era in testa e sembrava potercela fare invece ha vinto Rins, meritatamente con un'ottima Suzuki, il dove ha fatto quarto dietro a Miller, è leader in campionato la classifica è corta, tante cose da raccontare, ecco intanto parto da te Ezio, la caduta di Marquez, che effetto ti ha fatto? Sì no, è strano perché a casa sua lì ha vinto già sei volte quindi era già fatta, loro lo considerano un altro pianeta sì può aver fatto un errore il pilota perché comunque ha girato lo stesso tempo più o meno fino al giro prima io non ho visto situazioni del motore come si è sentito dire da altri colleghi però logicamente vedendo che Craccio è caduto, lui è caduto, Lorenzo nello stesso punto quando mettono questa prima che la mettono in due punti lì ti lascio un dubbio, però può avere anche solo sbagliato e poi sai che la Honda non parla l'unica cosa che mi fa specie è che Marquez prima parla e dice che gli errori ci sono poi dopo però si vede un'espressione che ti apre qualcosa che ti fa pensare e del resto dopo Marquez ha detto che l'onda nelle curve da primo qualche problema c'era lo ha fatto capire, sentiamo l'ing sì, ma io penso sia una caduta sia quella di Marquez che quella di Craccio è una tipica caduta da Michelin da Michelin, esatto e sapevo e quindi non ci vedo cose particolari è chiaro che su questa pista qua una delle caratteristiche un po' particolari sono queste frenate molto lunghe, molto tirate dove si usa anche la mappatura del freno motore abbastanza aggressiva già e quindi diciamo che può essere, può avere inciso qualcosa di questo tipo nel senso che in quella frenata lì in particolare anche nell'altro rettilineo si vedeva che c'erano parecchie buche ecco quindi diciamo che potrebbe essere stata indotta da questi saltelamenti anche nel posteriore magari quindi un chiudi e riapri della mappatura del freno motore però obiettivamente è un errore dei due piloti sia Craccio che Marquez a meno che loro si possono esporre ma non penso proprio l'unico dubbio è che Marquez è abituato comunque tante volte l'abbiamo visto cadere in prova così poi prende la moto, l'accende e vai e queste moto non si è più accesa è quello il dubbio cioè una caduta così a 80 all'ora poi non si accende la moto perché sono convinto che se la moto ripartiva allora potevamo avere quel dubbio lì è un punto di domanda però sono ipotesi certo certo, si lavora in campo dell'ipotesi anche per voi lettori Marquez era l'assoluto favorito non era possibile fare diversamente il 56,2% era per lui il 28,3% per Rossi gli altri poca roba ecco io però vorrei sentire da te Giulio Honda è apparsa piuttosto in difficoltà su ste buche noi e tu in particolare abbiamo già detto che l'avantreno da Honda è un po' delicato hanno cambiato la zona Cannotto è più rigida, c'è meno feeling su per il pilota ecco, tu la leghi ancora questa cosa al circuito di Austin? ah sì, nel senso che la pista di Austin è una pista dove diciamo è favorito più Marquez che la Honda nel senso che è una pista dove abbiamo visto emergere invece le dotti ciclistiche che non vedevamo da un paio d'anni almeno della Yamaha però la Honda non è la moto che va meglio in quella pista lì per come è configurata la moto stessa e Marquez che è molto bene in quella pista lì e anche Cracciolo che devo dire quest'anno nonostante gli infortuni fisici ha cominciato una stagione alla grande nonostante questi errori che però l'ha sempre caratterizzato quindi diciamo che tutti quanti sia la Honda, sia la Ducati anche la Suzuki nella prima parte del fine settimana hanno sofferto perché hanno trovato una condizione di asfalto molto rovinata anche rispetto all'anno scorso quindi con ancora più buche di quelle che c'era lo scorso anno e l'unica moto che si è trovata bene obiettivamente è questa traia ma che diciamo dimostra di avere un punto forte ecco questa per la prima volta da due anni cioè questa combinazione di rigidità del telaio di setting delle sospensioni anche di erogazione del motore che le permette di essere di andare molto bene di essere molto a punto facilmente a punto perché a parte Vignales che si è trovato male il sabato però la moto ha sempre dimostrato deve andare bene anche con con Morbidelli lo stesso Quartararo su questo tipo di asfalti rovinati cioè è una caratteristica che è un po' sempre caratterizzato la Yamaha c'è la Ravan dimenticata adesso sta riemergendo qui non si sono viste cose particolari a livello di usura delle gomme di capacità di gestire la gomma posteriore e su questo piano quindi la Yamaha ancora rimandata giudizio esatto però diciamo che complessivamente la moto è molto ben bilanciata intanto rivediamoci la classifica tanto per ricordare le cose Rins con la Suzuki vince in 41-45 4-9-9 staccando Valentino Rossi di 462 millesimi con la sua Yamaha terzo e quarto posto due Ducati Jack Miller prende 8-45 Dovizioso è lì vicino perché alla fine quasi lo stava prendendo a 9-42 quinto Morbidelli con la seconda Yamaha Danilo Petrucci è sesto un'altra volta settimo Fabio Quartararò e poi vicinissimi Paul e Spargarò con la KTM è ottavo e proprio di un niente batte Francesco Bagnaia con Checco Bagnaia con la Ducati decimo Nakagami sempre lì in zona e poi undicesimo soltanto Vignales davanti a Iannone e poi Zarco allora perché la Yamaha allora parto da te Ezio che sembrava messa bene Valentino secondo tempo in prova insomma non capita tutti i giorni è stato brillantissimo perché non ha vinto come hai letto tu il duello Rossi-Rins chiariamo che la vittoria di Rins bellissima la sua prima vittoria meritata ottimo però un po' ha fatto specie a quel punto sembrava avere in mano la gara Valentino io la vedo sotto questo punto di vista cioè secondo me quando Valentino ha visto che Marquez è andato dice oggi è la mia giornata cioè in mano la gestione tra l'altro aveva un ottimo ritmo come ha detto Lingeli era posto di tutto però logicamente poi Rins che viene su forte mi avranno magari segnalato che arrivava ma logicamente Rins ha fatto i Rossi di 15 anni prima secondo me cioè perché Rossi non considera Rins come avversario che non lo conosce certo adesso in poi lo conosce ma solitamente Vale faceva quello che ha fatto Rins cioè secondo me Rins è stato proprio dietro perché intanto con 20 curve io conosco bene quel tracciato lì con una MotoGP fisicamente ti distrugge e poi quando la devi comincia a guidarla di forza perché sull'anteriore ad esempio gli ultimi giri un po' quando andava lungo un po' la gomma la c'è giù per voi Valentino lavora molto sull'anteriore io penso che se potesse rifare la gara Valentino 12 giri davanti Rins non gli fa fare cioè Rins ha fatto il Valentino tanto è vero che quando poi è andato lungo lì al curvino dove è caduto Márquez ha preso quel vantaggio pensavo che Rins gli veniva un po' il famoso bracino che un pelo l'ultimo giro e vedi Rossi lo riattacca ma ormai le forze secondo me anche fisicamente una piccola componente e secondo me gli sono girate le balle veramente Gianola lucida analisi da pilota Inge Concordi sì 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 sono d'accordo anch'io è un po' allora intanto bisogna considerare che Valentino ha un po' di tempo e non vince quindi l'abitudine poi a non vincere ti fa perdere i meccanismi poi per essere lucido nella visione della gara ecco lui obiettivamente si è trovato dietro solamente negli ultimi due o tre giri con le gomme praticamente ormai finite ecco quindi doveva nel momento in cui ha visto che non riusciva a staccare Rins doveva aspettarlo magari farlo star davanti obiettivamente ma perché non lo considerava esatto e risparmiare un po' le gomme ecco non lo so se non lo considerava o se si sentiva poco sicuro perché probabilmente bisogna considerare che anche lui visto che Rins poi è andato a riprenderlo aveva paura di farlo scappare via quindi l'ha giocata male obiettivamente secondo me poi bisogna anche considerare che forse l'unico tallone ad Achille che aveva Gaia Mare rispetto a Suzuki sul piano tecnico le due moto si equivalevano? allora se vista nella prima gara in Catala Suzuki prevalera da un punto di vista motoristico invece qua erano più o meno sullo stesso piano quindi vuol dire che Yamaha era settata molto bene anche lì anche da quel punto di vista lì l'unica cosa che probabilmente ha dato un piccolo vantaggio a Rins è stato che nel momento in cui ricordiamoci verso fine gara queste moto qua devono essere settate cioè il pilota fa una scelta di mappatura più leggera a livello di frano motore quindi diciamo la moto viene sbilanciata e in quelle lunghe frenate lì di Austin la cosa diventa un po' particolare perché il pilota sente che c'è un eccesso di carico davanti nel senso che la frenata è tutta davanti non c'è più l'aiuto del freno motore in quel frangente lì la Suzuki è andata meglio perché Valentino ha fatto quei due piccoli lunghi che l'hanno tirato via dalla vittoria quei punti lì dove Valentino va lungo se tu guardi la Yamaha ha bisogno di essere più tonda mentre lui la guidava più a spigolo cioè va dentro la alza e dà gas e aveva trazione più sul posteriore e lì sono quei piccoli vantaggi che poi devi andare a inserirti più velocemente in inserimento e quando non hai più davanti sei obbligato è un po' come quando guidi sul bagnato sei lì sul filo è uguale e resta questa caratteristica questa esigenza che ha Valentino che ha la Yamaha di avere un avantreno con una gomma particolarmente dura di carcassa che non c'è attualmente non c'è questo sarà probabilmente la discriminante per il resto della stagione anche lì è infatti la scelta della media però non è la gomma della Yamaha quella lì quindi diciamo che Valentino è sempre un pelino sotto quello che potrebbe fare lui in ingresso di curva io vorrei dedicare un minuto a Gianola che è stato così brillante subito pam che va a pizzicare l'analisi raccontandovi che lui ha fatto 10 anni di mondiale sempre 125 ha cominciato nell'83 è andato subito qualche apparizione è andato subito a podio nel Gran Premio della Nazione a Monza subito il primo anno con la MBA la prima gara la prima gara 102 gare 9 vittorie 5 stagioni tra i protagonisti poi ha lasciato la Honda per andare in derby ha preso un mucchio di soldi però purtroppo la moto non era competitiva è tornato sulla Honda è tornato ancora grande e poi è mollato sì un po' ma secondo me il mio livello l'ho sempre messo sul piano un po' i cani e gatti diciamo a Canola e Gresini eravamo quelli un po' eh sì io penso come livello di piloti poi dopo sono sempre quei fili sottili che bisogna delle volte anche mandare giù qualche rospo perché in quei periodi lì bisognava poi accettare tecnicamente una volta c'era la scelta delle gomme sai c'era la Dallop c'era la Bridgest c'era Michelin se quell'anno ti impongono una gomma un po' meno per esempio l'89 abbiamo patito tante era un contro Crivill era un mondiale già vinto però noi siamo andati veramente in crisi rispetto alla Dallop e là c'era Cobas che aveva anche una marcia in più sul piano ciclistico la Honda aveva secondo me il motore è sempre meglio però è una tradizione certo fai sempre fatica con le ciclistiche però è stato io come dicevo sono stati anni bellissimi bellissimi si siamo divertiti siamo stati insieme tanto tempo è stato un bel motociclismo e quindi io sono contento di questo assolutamente sicuramente potevo vincere molto di più e adesso cosa stai facendo stai formando dei ragazzi adesso c'ho quella scrittina qua box di anual academy ho sempre fatto un po' il coach nel mondiale con molti piloti giovani che ci sono anche oggi e poi mi è venuta questa idea perché proprio per passione penso che adesso ci sono delle motorette molto adeguato questi ovali quattro tempi dove si può lavorare anche sulle ciclistiche e far imparare il pilota che tra i 10-12 anni ci sono delle piste adeguate vanno via a 160 all'ora e quindi puoi fare imparare un pilota arrivare alla moto 3 al pre mondiale diciamo molto più maturo molto più maturo e capisce qualcosa della moto tecnicamente e questo è molto carino mi piace l'appoggio di un team e quindi ho un po' di ragazzi domenica cervezzino abbiamo vinto all'esordio con questi ragazzi ragazzini si siano 10-12 anni ma ti dico anche sul bagnato è un affare carino poi penso che tu l'abbia provata ma è una bella una bella idea mi piace poi poi vediamo bravo Ezio torniamo sulla classifica quella mondiale allora la classifica per effetto del volo di Marquez si accorcia 54 punti per Dovizioso che è leader 3 punti in più di Rossi che è a quota 51 Rins è terzo a 49 e Marquez è soltanto quarto col suo 0 a quota 45 dunque ci sono 9 punti 4 piloti e 4 moto diverse sembra un campionato particolarmente brillante particolarmente equilibrato ma è vero ingegnere oppure è stato un po' un caso? ma è stato un po' un caso nel senso che la Honda Marquez in particolare ha dimostrato una superiorità abbastanza netta anche in questa gara qui onestamente l'avrebbe vinta diciamo in maniera abbastanza facile lui dopo 3 giri 4 giri aveva già un bel distacco quindi diciamo che in queste piste extra europee fino adesso la Honda e Marquez hanno dimostrato come già da parecchie stagioni la loro superiorità a parte il Qatar a me diciamo secondo me dovevano sfruttare meglio la caduta in Marquez soprattutto in Ducati ecco per la Ducati ricordiamoci avrebbe fatto sesta condurizioso senza le cadute se fossero state in piedi entrambe le Honda quindi insomma una gara un po' negativa secondo me cominciata male fin dall'inizio per le moto ufficiali mentre Miller sulle buche un po' all'australiana si è cavata devi darla cattivo e invece gli altri due sono andati in crisi esatto gli altri due sono andati in crisi proprio di settaggio e si è salvato in parte domenica Andrea ad unizio però un risultato un po' negativo nel senso che sono veramente tanti punti persi perché quando Lotti contro Marquez con la Honda e nel momento in cui lui cade almeno almeno deve arrivare al podio tra l'altro c'è ormai lui loro loro tutti a parte la Suzuki che entra di prepotenza e vediamo nell'andare avanti cosa fa Marins comunque un piloto molto bravo guida molto leggero quindi risparmia molto leggero ma è intelligente non ha pressione la squadra però cosa succede quando tu prendi il calendario ognuno di loro cioè Yamaha Honda Ducati diciamo guardano quali sono ormai i gran premi dove qua faccio qua vinco qua devo fare meglio perché andando contro Marquez che non ha Buki quando buca fa terzo ha fatto una gara sotto zero quindi è lì quello che diceva Inge è esattamente che dovizioso per fare quel passo ad attaccarlo Rossi lo potrebbe fare però nel contesto del campionato non lo so cioè devi vivere solo sugli errori di Marquez cioè quello è lì il punto anch'io come ha detto lui la Ducati ha una moto che può andare di più perché se Miller te la guida da cattivo o li dimenti cattivo o se non devi essere fortunato se non fai sesto e anche la gara prima non l'ho vista bene in Argentina mentre come Marquez lì e anche essendo meglio la Yamaha e ho anche la Suzuki che arriva quindi è più bello e il cracciolo che spesso cade qui là ma quando c'è la giornata è davanti anche lui quindi è un po' così indubbiamente dunque mi ha colpito il fatto che il Dovi ha fatto questi errori di valutazione sulle qualifiche quando ha provato la pista andava ad asciugarsi lui ha provato a fare a non fermarsi a usare una gomma sola a prendere il ritmo era una strategia che in passato ha premiato un mucchio di volte per un pelo per mezzo giro gli è andata male però lì mi ha un po' colpito il fatto che il manager Tardozzi lo criticasse pubblicamente che secondo me visto che Ducati ha solo il Dovi sarebbe meglio cioè non vorrei che questi passi falsi creassero dei problemi all'interno della squadra tu Giulio come la pensi? l'equilibrio è sempre molto molto dedicato adesso obiettivamente quest'anno per Andrea sostanzialmente non ci dovrebbero essere scuse nel senso lui è chiaramente il pilota numero uno e quindi la Ducati deve far corpo unico attorno a lui questo è fondamentale ecco è logico che determinati fine settimana come questo qui devono essere gestiti con una difesa spadatrata da parte del team quindi certe volte le critiche possono far bene magari per spronare il pilota però in questa situazione qui secondo me Andrea in particolare deve sentire che la Ducati è attorno a lui è tutta per lui ecco bisogna che questo sia assolutamente una cosa che avviene perché lui possa rendere sempre al 100% in una stagione in cui obiettivamente per quello che abbiamo visto fino adesso è veramente da giocare contro Marquez è in fornissima poi sono tutti sono tutti prime guide le seconde guide non esiste nessuno nelle seconde guide perché Vinales va forte il venerdì e poi va sempre peggio perché se non impara a partire poi c'è un pilota di quel livello lì è uno che ha imparato ha saputo vincere e lì dentro con Valentino soffre paurosamente di questo Petrucci tre sesti posti un po' troppo poco forse anche lui sente molto che lì c'è poco da fare o vai lì vinci o vai forte e dall'altra parte Lorenzo al momento peggio quindi per adesso sono queste non si inserisce nessuno a dare una mano all'altro tu mi dai la palla perché dici giustamente Vinales soffre il compagno di squadra era un tema che anche Linge aveva sottolineato e noi abbiamo fatto un sondaggio per voi lettori quali sono i problemi di Vinales per il 52,3% non prepara bene la gara quindi una carenza tecnica sulle qualifiche per il 29,1% è lento nei primi giri e questo è il dramma e per il 13,3% soltanto soffre il compagno di squadra non sa il 5,3% di fatto Vinales c'è la teoria qual è se tu guardi Vinales nelle prove lui da solo senza nessuno davanti ah si ne abbiamo parlato qui certo va fortissimo va fortissimo poi lì scatta qualcosa che quando parte già lui parte ma lei ride through è un problema perché lui dice devo partire bene devo partire bene e già fa un errore perché si muove parecchio peggio di craccio e poi il diciamo il match race non lo sopporta cioè il corpo a corpo frena ma c'è da solo quando hai da solo dei punti riferimenti quando è un avversario scompare il punto riferimento è lui quindi lui lì non è uno cattivo non lo vedi mai farle entrare non è che Valentino quando bam bam e poi Valentino è comunque l'unico che gli ha tenuto testo è stato Lorenzo con la Yamaha che ha vinto tre mondiali però l'ingio sottolinea anche che quando tu sei nel gruppo e non puoi fare la tua guida stressi le gomme e quindi il range di temperatura è tale per cui la paghi cioè lui dovrebbe partire in testa certo se parte in testa è l'ansia è l'ansia di partire bene quindi lui deve lavorare il suo avversario è se stesso certo assolutamente il lineare se è chiaramente in crisi da un punto di vista psicologico lo è da circa un paio d'anni ormai perché diciamo che lui dopo il debutto con le vittorie al debutto in Yamaha però non è più stato lui sostanzialmente quest'anno è stato diciamo accontentato da un punto di vista tecnico cioè gli hanno fatto questa rivoluzione all'interno del team mettendo un capo tecnico che lui gradiva di più ha voluto ha gradito probabilmente sacrificando anche un po' la situazione da un punto di vista di capacità di conoscenza della moto di conoscenza dei settaggi eh sì però è logico che lui anche lì quello che è successo in gara cioè fare l'errore poi lui fa il long lap penalty poi deve fare anche il ride track questo dimostra che un pilota non c'è con la testa ecco quindi bisogna in un certo senso anche lì che ci sia la i manager di Yamaha che riescano a trovare la chiave trovare la chiave per rimetterlo tranquillo e proprio per lasciarlo esprimere tra l'altro aveva cioè gli hanno lasciato fare proprio la situazione di scelta tecnica che a mandar via capotenevo che adesso è comorbidello Ramon cioè Ramon Forcada è uno che sa vita e morti in miracoli però Ramon Forcada ha un carattere che ti mena sì sì certo cioè se tu è uno che ti tira su di peso là sono più morbidi li lasciano fare quello che vogliono ma probabilmente quando sei messo sotto pressione non sai più neanche quello che vuoi se così vai forse dalla parte ancora peggio perché tra l'altro Morbidelli fa quinto ha fatto quinto e sull'esperienza avrò un perico così ti spiega la strada perché tutti i parametri sono nella sua valigetta eh sì non è male anche quella è una bella mossa ecco io però ingegnere ti voglio riportare giù su Honda perché le due rotture di catene o salti di catena da chiarire hanno colpito tutti come mai succede questo? qual è la tua spiegazione? è una cosa difficile da dire diciamo la rottura della catena può succedere è chiaro che è stranissimo che succeda con in un team che è sostanzialmente il team numero uno da tantissimo tempo e quindi ha del materiale fresco assolutamente certificato validato sulla catena in particolare mi ricordo noi ai tempi avevamo uno sponsor diverso dal fornitore della catena che voleva darci del sponsorizzarci anche col materiale ma noi non potevamo utilizzarlo c'era vietato perché anche la catena era in un certo senso certificata omologata testata dalla onda quindi diciamo una cosa molto strana quella che è successa non lo so se anche il ritiro di Lorenzo in gara poi sia dovuto a quella cosa lì o a un problema tecnico diverso però secondo me sono degli episodi ecco non vedo la onda in crisi anzi la vedo in una stagione in cui la moto l'ha indovinata partita in anticipo va bene partita in anticipo va bene Cracciolo va bene anche Nakagami secondo me se va bene lui quindi la moto sicuramente c'è Lorenzo lo vedo in crisi soprattutto dal punto di vista fisico lo vedo molto in ritardo ecco c'è chi ha commentato anche la corsa per rientrare al box molto stanca e l'ha paragonata all'agilità di Marquez probabilmente lì è difficile giudicarlo forse lì era anche in salita mentre Marquez andava in piano non lo so però obiettivamente lui è un po' in ritardo lui fisicamente ecco quindi lo vedo in grado purtroppo è una stagione compromessa già per lui però lo vedo in grado di riprendersi ecco la moto sicuramente c'era tu come lo vedi e Cherez sarà la cartina torna sole per Lorenzo tu cosa pensi? ancora no no perché comunque come ha detto lui io ho poi questa generazione di piloti che fanno queste preparazioni fuori dallo schema non le capisco cioè se tu tu non puoi andare con una pit bike o con qualunque moto a 15 giorni prima 10 giorni prima del primo gran premio dove non è il tuo cioè si sei allenato e tutto ma se la sbagli e te la tiri dietro tutto l'anno e lì non serve perché tu sei allenato hai già fatto l'allenamento quindi io dico sempre anche ai ragazzi quando quando gli dico non fate più cross un mese prima perché sennò mentalmente cioè lui non può essere preparato fisicamente e neanche mentalmente non sei più forte di conseguenza poi vai pochi test uno lo salti una moto difficile perché una moto è difficile perché comunque per lui soprattutto cioè Marquez può dire ad esempio su quello che parlava lui sul fatto del canotto cioè cosa c'è quella moto lì hanno migliorato tanto però secondo me ha un limite quando vai su piste magari bucate o molto strette molto angoli cioè una moto pazzesca però che poi non ti dà nessun non ti avverte non ti avverte e qualche volta ti chiude lo sterzo presso il davanti che poi l'ha già capita Lorenzo senza andare forte però Marquez deve proprio combinarla grossa se no ecco questi qui sono un po' i limiti però è veramente indietro secondo me qualcosa al Mugello già Mugello la sua pista andavia eh certo avevo fatto un sondaggio per sapere da voi elettori come la vedete cioè che tipo di campionato sarà questo 2019 con Marquez che svetla su tutti come in Argentina o tutti vicini come in Qatar perché l'avevamo fatto dopo il Qatar dopo l'Argentina allora per il 46 e 4% Marquez su tutti però per il 43,3 sarà un campionato invece tutti i vicini equilibrato non sa il 10,3 come la pensiamo a noi l'abbiamo già detto passiamo a KTM allora lì KTM colpisce tantissimo la situazione dove c'è Paul Spargaro che ti piazza delle qualifiche meravigliose poi fa ottavo in gara e Zarco che naufraga nelle ultime posizioni allora intanto parto questa volta da giuro e poi vado su Ezio ah sì allora la prestazione di Paul Spargaro favorita dalla pista ancora una volta nel senso che questa qui è una pista lo dimostra anche Miller con la Ducati dove se guidi con aggressività il tempo lo fai il tempo lo fai soprattutto se fai il time attack poi la gara è sempre una cosa diversa la gestione è sempre un po' più difficile KTM sicuramente è una moto abbastanza performante soprattutto sul piano del motore la vedo ancora abbastanza indietro come messa a punto ciclistica rimango sempre con questo enorme interrogativo cioè io non avrei fatto se fossi stato in loro se fossi stato a dirigere tecnicamente la situazione non avrei fatto la scelta di sviluppare oltre alla moto anche le sospensioni quando invece sono già pronte del materiale pronto che posso utilizzare tranquillamente per cui la vedo una stagione difficile per loro è logico che in questo momento qua dal punto di vista psicologico sta vincendo Espargarò quando doveva fare il secondo a Zarco l'ha detto anche lui un po' intervistato in questo weekend quindi diciamo Zarco è da recuperare probabilmente anche sul piano appunto psicologico cioè è un po' nella stessa situazione di Vignale sconde le prestazioni innattamente inferiori questi piloti in crisi come li vedi Ezio a te è capitato di andare in crisi tecnica sì beh però devi ripartire io quando ho preso il posto di Martinez alla derby cioè io gli ho detto signori avete una moto indietro tre anni quindi dobbiamo partire dalla ciclistica in urugazione del motore cioè intanto c'erano i lamellari al posto di disco cioè alla fine io penso che la KTM è un po' prendo un po' di qua prendo un po' di là cioè esempio la Ducati c'aveva lo stesso telaio ha abbandonato ha fatto un delta box alluminio intanto io partirei da lì le sospensioni e poi c'è tutta l'erogazione del motore perché delle volte se tu vai a bordo pista e abbiamo un po' di orecchio cioè il motore ancora e cioè tra elettronica il cambio interno e la gamma è scorbutica cioè uno come Zarco che guida che guida alla Lorenzo di Fino la guida bene qualche volta da cattivo e guidare a cattivo però stanchi le gomme ti stanchi tu cioè non lo so quando vedo queste cose che è lì anche la piglia un po' da quella parte lì un po' però lì poi ci sono altri budget ecco io ti volevo portare sulla piglia e quindi sei certo al di là del budget perché Jannone che pure è un pilota che ha cambiato tante moto ha dimostrato di essere abbastanza versatile e come mai invece così tanto in crisi poi arriva da Giulio non lo so intanto lui non lo so se si galvanizza vero una moto che va forte fa uno step come faceva con Ducati o come ha fatto l'anno scorso che fece terzo Austin Lee con la Suzuki oppure c'è da lavorare tecnicamente e quando c'è da lavorare tecnicamente bisogna prendere una linea con gli ingegneri perché la moto la fanno loro su una certa linea quindi io penso che loro stanno facendo le gare ma anche collaudando tante cose perché il gap è comunque tu puoi fare un giro veloce alla morte ma poca benzina qualche regolazione fatta bene meno e faccio un tempo ma in gara prendi una vita e quindi riparti infatti è sempre il fatto comunque penso anche dalla base se da linea l'hai spostato e ha vinto tutto in aprilia diciamo la superbike va in Ducati guarda che moto che ha fatto in superbike cioè la linea è quella lì poi intorno c'ha gente giusta e i risultati sono quelli ma secondo me KTM anche se ha il budget poi bisogna vedere anche chi ha che gli mettono sulle mani non è che poi il pilota non è che se metti su Marquez vince con la KTM e comunque è centrato perché è l'analisi che abbiamo sempre fatto anche con l'inge sul fatto che Aprilia sta sviluppando di fatto Aprilia sta sviluppando c'è anche da dire che Aprilia soprattutto da parte di Iannone ha cambiato molto è arrivato Fabrizio Cecchini come capotecnico che sicuramente si porta dietro un'esperienza di lavoro in pista bisogna capire quanto loro poi sono in grado di trasferire questa esperienza qua queste informazioni qua sul piano progettuale sullo sviluppo sulla realizzazione dei pezzi quindi io la vedo ancora in crisi da questo punto di vista qua cioè mi sembra che Aprilia abbia sicuramente un potenziale tecnico un know-how notevole l'ha dimostrato in tantissimi anni di moto mondiale c'è una storia però in questo momento manchi un po' quella fase di collegamento che dovrebbe fare proprio l'ingegnere di pista cioè quel collegamento tra quella che è la situazione all'interno del box quelli che sono i commenti di chi lavora al box del pilota e quello poi che viene fatto durante le settimane a casa per produrre del materiale nuovo sviluppato se manca questo collegamento qua poi si brancola un po' nel buio e allora tutto il potenziale che hai a casa al reparto corse rischia di essere disperso questa è un po' la situazione quindi bisogna ricostruire questa cosa qua probabilmente manca questa figura all'interno dell'apri di anni ci sono dei collegamenti che se tu stai a guardare come perché bisogna stare sulla pista a guardare perché i dati ce li hai però bisogna guardare i comportamenti delle altre moto con la tua ci deve essere anche quella vista il coach che sta in pista e capircene perché io ad esempio ti aiuto io io ad esempio notavo ad esempio che se tu vai a guardare ad esempio dei passi che ha fatto la Ducati sull'erogazione sulla gamma del motor la distribuzione della marcia cioè oggi con la seconda fanno 300 metri senza metri quindi ha una gamma molto lunga cosa fa che da un tratto un altro non devi continuare a mettere marce ovvero una moto con una gamma che in un certo regime di motore è molto brusca quindi metti esempio se tu guardi la briglia certe volte le inquadrano si muove tantissimo perché in quella fase lì magari il motore è comunque difficile cioè tutti questi componenti e così anche la KTM sono sono la differenza che se tu guardi una Yamaha e va via una Honda è più dura ma comunque la Ducati ha migliorato la sua gamma ed è ha fatto un bel passo avanti e so per la differenza tra una moto finita e una moto che sta ancora il laboratorio contro esatto altre classi altre classi Moto3 a Cane pilota del tuo amico Max Biaggi e sul podio va Migno col terzo posto quinto Antonelli sesto Arbolino Fenati sfortunato ecco tu hai seguito Fenati per un po' e nel loro opera era stato il più veloce tanti anni l'ha seguito peccato perché lui ha un grandissimo potenziale però per una cosa o per l'altra alla fine è quello che purtroppo vedi cioè io anche nello scorso quando facevamo la Moto2 per me cioè se parlo di talenti io ne ho avuti tanti tu Antonelli ho passato di Gianno Antonio Rinaldi ne ho avuti parecchi talento puro io lo metto al primo posto lavoro per utilizzare il suo talento non dico l'ultimo posto ma è così se la gioca cioè perché perché comunque anche quando è stato nel gruppo del VR il fatto che loro fanno molto un comune fanno casino sono sotto fan baracca il gruppo sì ma il gruppo c'è alla Valentino come è lui e lui invece ama stare a casa tutte queste cose qui fai fatica a capire come fare una preparazione cioè ci sono tanti punti dove è difficile ad esempio quello che ha fatto con Manzi cioè lui è un ragazzo che ha un limite che tra l'altro è un ragazzo intelligente va forte in moto cioè è uno che può aiutare Arbolino nel senso però c'è queste uscite delle volte che sono non riesce a controllarsi perché se vede qualcosa di negativo va a fare l'estremo cioè cosa stai a fare con Manzi per il sedicesimo dici e settesimo posto a sportellare che non ha senso per e poi dopo c'è la squadra ci sono tante cose però secondo me dipende sempre da lui però io ti dico la verità sulla moto 3 i più forti sono andati in moto 2 e quindi sono rimasti dei ragazzini con Manzià che va forte Migno e la idea tanti anni cioè Fenati è un 96 cioè dovreste andare con una mano tra l'altro ha dominato le prove le ha vinti due volte però è tre gare che purtroppo no questi sono tutti limiti caratteriali moto 2 a Lutti con Pazini che ha fatto una gara strepitosa che ha mollato la cabina di Telecrona 10 Lode comunque salire su delle moto che tra l'altro sono cambiate sono le moto con i motori Triumph quindi ma lui ha esperienza con la moto con il 600 Honda e quindi ha fatto una prestazione veramente incredibile ecco tra l'altro poi venendo fuori nel finale quando teoricamente doveva essere più stanco degli altri c'era un giro ancora faceva il podio assolutamente peccato mi diano la Lode solo perché non ha fatto il podio che peggio per Paul è anche per lui perché ha dimostrato è brutta quella situazione è brutta sì perché lui come telecronista si è rivelato bravissimo ma insomma dentro è ancora un pilota e lui vuole correre è certo prossima gara finalmente in Europa 5 maggio a Cherez Gran Premio di Spagna è la quarta gara dell'anno una pista che tu conosci che io ce l'ho ancora qua bellissimo Ezio perché è un Gran Premio perso l'ultimo giro per una fascia sul motore dopo aver rifatto la derby da zero come parlavamo prima e dare 10 secondi a Capirosi Martínez a tutti con l'elicottero del capo sopra che vedi che quando rompe l'ultimo giro l'elicottero guardava con l'elicottero la gara sopra il circuito c'era davanti 140 mila persone addirittura non sentire neanche poi il motore dalla gente che perché sai la derby è un po' come la Ferrari in Italia neanche la Ducasa e quando poi un pilota che non era neanche spagnolo ha preso in mano la situazione ha lasciato la Honda vincente perché poi tra virgolette ha venuto il Mondiale Capirosi che penso che ci avrei potuto mettere le mani però sono scelte però è bello ricostruirsi andare lì menare però l'ultimo giro quando rompi una fascetta c'era una porosità nella fascia della male che su cento dove cosa vuoi che non la prendiamo noi con la porosa quindi per dieci pesetas abbiamo perso un gran piano ancora Giannola li brucia è passato qualche anno ma li brucia no perché poi se vinci con moto diverse vuol dire che io la vedo così uno deve andare fuori no 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 Giannola aveva aveva un gran talento e anche tanta concentrazione e convinzione non ha avuto non è sempre girato tutto dalla parte giusta e Inge invece Jerez cosa vedremo ma è difficile dirlo Ducati l'anno scorso prima dello strike stava andando bene sì Ress al di là delle caratteristiche del circuito e delle curve classiche che ci sono lì da pista da guidare molto negli ultimi anni con le Michelin ha sempre fatto la gara alla Michelin cioè le Michelin hanno sempre avuto problemi di durata e quindi in gara si è sempre corso con dei ritmi abbastanza blandi e ha vinto chi ha conservato le gomme quindi diciamo quest'anno si è rimescolato tutto perché è stato rifatto un po' il regolamento non c'è più la piattaforma inerziale libera la Yamaha adesso sembra trovarsi bene quindi insomma è un po' aperta la situazione il pronostico è più difficile ancora meglio allora noi vi diamo appuntamento per il 7 di maggio grazie all'ingegnerone come sempre e grazie a Edizio grazie a noi ospite graditissimo bravo Ezio grazie ciao a tutti ciao ciao Grazie per la visione!